Ciao papà, torno a casa per qualche giorno. Ti voglio bene. Perfetta. Ciao. Finalmente era ora. Sempre in anticipo. Cominci subito? Dai, andiamo a casa. Esci con qualcuno? Sì, anche tu dovresti cercare compagnia. Io? Ma io già te. Craven! Oddio. Ci sono ancora tanti punti poco chiari, ma pare che il vero obiettivo fosse il detective Thomas Craven. È una persona armata e pericolosa. E io che ti sembro? Come l'ha presa. Emma Craven non c'è. Chi parla? Signor Craven, ho qualcosa da dirle. Davvero? Cominci dal nome. O da chi ha sparato a sua figlia. Voglio sapere che faceva qui mia figlia. È un'informazione riservata. Emma Charlotte Craven era considerata una possibile minaccia per gli Stati Uniti d'America. mia figlia non era il tipo. Qui non stiamo parlando dei soliti giochi di potere. I casi come questo restano irrisolti. Non si arriva mai a collegare A con B. E lei come lo sa? Perché sono io che impedisco di collegare A con B. Ha intenzione di inseguirmi anche a Boston. È avvenuto l'inferno. Che cosa si prova? Annulliamo l'operazione. Troppo tardi, è già iniziata. Non arresterò nessuno. Io non lo faccio mai. È fuori dalla sua giurisdizione. Mia figlia era Emma Craven. Non ho niente da perdere. Allacciati la cintura. Decidi se vuoi essere quello che è messo in croce o che pianta i chiodi.